Salve amici democratici, oggi un video su Eldiverse 2, è uscito il nuovo Warbond, l'ho provato e quindi vi darò un po' di mie prime impressioni. Ma prima di guardare Warbond vi faccio notare che sono stati aggiunti nuovi potenziamenti alla nostra nave, quasi a sorpresa, così ogni tanto arriva qualcosa di nuovo. E infatti in tutte le categorie della gestione della nave, moduli della nave, c'è adesso un potenziamento in più. Quindi per tutti quelli che avevano già accappato le risorse, avevano sbloccato tutto, adesso c'è altro da sbloccare. Devo dire che sono tutti simpatici, niente di incredibilmente forte, tranne uno che mi sembra molto forte rispetto a già i potenziamenti che hanno fatto nelle ultime patch sui danni da fuoco. Comunque, vediamoli velocemente. Adesso nel centro amministrativo patriottico abbiamo metodologie di imballaggio massimale. Questo ci permette, quando noi chiamiamo un rifornimento con le casse di supporto, di avere già i massimi caricatori trasportabili per le armi di supporto. Quindi cadono giù già con i massimi caricatori. Per quanto riguarda i cannoni orbitali, abbiamo la possibilità adesso di potenziarli ulteriormente e avere una dispersione dello sbarramento orbitale esplosivo ridotto del 15%, quindi per i due sbarramenti 120-380 mm un spread minore, quindi sono più precisi. Non è tantissimo il 15%, però se vi piacciono i sbarramenti c'è questa opzione. Per quanto invece riguarda l'hangar e gli stratagemmi eagle, adesso per quelli che tirano più bombe, quindi non per le 500 kg, potremmo avere una bomba in più all'interno appunto dell'attacco. Quindi questo è per gli attacchi eagle normali, fumogeni, grappolo e napalm. Per quanto invece riguarda il ponte, abbiamo un potenziamento che appunto mi sembra super forte, ovvero la possibilità di alzare ulteriormente del 25% i danni al fuoco, che vi ricordo sono stati alzati due volte di fila in due patch diverse del 50%, quindi già sono molto forti i danni da fuoco, ma adesso potreste aumentare ancora di più per lanciafiamme, attacchi al napalm e mine incendiarie. Quindi se riuscite a sbloccare questo, secondo me si sentirà la differenza. Invece nella parte officina, ingegneria, si potranno potenziare i fulminatori e le torrette tesla, in modo che i danni elettrici possano emettere una scarica in più, ok? Questo è simpatico pure, ma non mi sembra game changing, diciamo così. E in ultimo nel laboratorio di robotica possiamo rendere le sentinelle il 50% in più resistenti ai danni da esplosione. Questo invece potrebbe essere molto buono, soprattutto quando si fanno quelle missioni di difesa, magari uno mette un paio di mortai e insomma se resistono a qualche danno in più su esplosione è ancora meglio ovviamente. Come vedete sono tutti quarti potenziamenti, quindi per sbloccare tutti quelli che vi ho detto dovete aver sbloccato i primi tre precedenti. E sono anche abbastanza esosi, come vedete, di risorse, nonché anche di crediti. Adesso ragazzi andiamo a vedere il nuovo warbond, Democratic Detonation. Costa mille supercrediti e io, come vedete, ho già speso 292 medaglie e ho anche giocato qualche ora. L'unica arma che non ho provato, ma ho semplicemente visto dei video per così farmi un'idea e darvi una mia impressione, anche se ovviamente sarà meglio quando la proverò, è la balesta, semplicemente perché non ci sono arrivato con i crediti, anche se ho usato tutti i 250 più quelli che ho fatto giocando non ci sono arrivato a sbloccarla. Ma partiamo dall'inizio. Nella prima pagina noi possiamo sbloccare la granata termite, il giudicatore e poi anche un armor media con il perk servo assistito. Niente di che questa armatura è molto, diciamo così, poco interessante perché questo perk ce l'hanno tantissime altre armor di base ed è un'armatura media, quindi niente di che. Per quanto invece riguarda il giudicatore, non mi sembra un'arma particolarmente interessante. Allora, l'ho provata contro gli automaton ed è quasi inutile. Questo perché? Perché fa pochi danni, come vedete, 80 danni. Ha una capienza di 25 che giocando è veramente poco e anche se la cadenza di Twitter non è pessima e si può anche mettere, diciamo, con un ratio più sostenuto, non solamente in semiautomatico. Comunque non è abbastanza e anche se la penetrazione media contro gli automaton è brutta. Non la usate minimamente. Ci sono armi molto migliori contro gli automaton, ovviamente lo spellatore, anche se è nella pagina 10 del Warbond, quello libero e gratuito, non premium. Però anche giocare con il dominatore, oppure anche ancora usare lo slugger, secondo me è molto molto meglio contro gli automaton. Quest'arma non va bene. L'ho provata anche contro i terminidi e va un po' meglio perché comunque penetrazione media vuol dire che colpite praticamente quasi tutti, bucate quasi tutti gli insetti, a parte i charger e i titani, ma 25 di caricatore è poco, molto poco, soprattutto rispetto a questi danni. Quindi secondo me questa è un'arma abbastanza bocciata. Per quanto riguarda la termite come granata è molto particolare. Praticamente voi la lanciate, si appiccica nel 90% dei casi alla superficie in cui la tirate, a volte rimbalza ma nella maggior parte dei casi si appiccica, comincia a bruciare e comincia a fare danno nel tempo. Ci mette un bel po' di tempo poi prima di esplodere. Quanto è forte? Beh, diciamo che è ottimale contro i nemici con armatura molto pesante. Per esempio contro i tank degli automaton o i Hulk degli automaton, con tre granate riescono a distruggerli. Quindi ci vuole un po' di tempo perché magari la tirate una, due, tre, brucia, 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 poi esplode, esplode, esplode e poi appunto il target muore. Non è una cosa molto veloce, però funziona. Anche contro gli arieti, charger, dei terminidi ce ne vogliono due barra tre e comunque funziona anche contro i titani. In quel caso dovete essere un pochino più precisi da lanciarla perché non è facilissimo però si appiccica anche a loro e anche lì comincia a bruciare e poi esplode. Sui titani non saprei esattamente quanto ce ne vogliono solo come granata perché ovviamente i titani nel frattempo alla partita c'erano altri che sparavano e tutto quanto però fa del danno, è interessante. Quindi come granata nuova questa secondo me è buona, non è magari stratosferica ma è buona. Ve lo dico semplicemente anche perché comunque con le granate voi ci nascete diciamo così, spawnate già con le granate e quindi avere la possibilità di avere una granata così efficiente contro le armor più pesanti del gioco è sicuramente utile. Quindi io la provo. Non è sbroccata ma è buona, molto buona. Secondo me è molto buona. Passando alla pagina numero due abbiamo il potenziamento esperto di estrazione che riduce il tempo necessario lasciato di estrarre per raggiungere il raggio di estrazione. Ok, in realtà questa non l'ho provata. Non l'ho provata perché io preferisco sempre altri tipi di potenziamenti. Probabilmente in realtà questo potenziamento è buono solo a livello 9 magari, a un livello di difficoltà molto molto difficile e dove magari quei 30 secondi in meno più o meno vi servono e vi giovano a far completare con successo la missione. Quindi credo che comunque sia di un uso molto molto limitato. Ci sono potenziatori migliori secondo me nel gioco da usare piuttosto che rispermiarsi 30 secondi o qualcosa del genere. Quindi insomma non mi sembra game changing, ok? Tranne a livelli altissimi di difficoltà oppure se in futuro metteranno livelli ancora più alti di difficoltà. Per quanto invece riguarda le armor abbiamo questa armor leggera con il perk ingegnere o geniere. Ok, questa è interessante perché mi sembra di ricordare che non ci sia questo perk da nessun'altra parte come armor leggera con questo perk. Io ne avevo una simile ma l'avevo comprata nel superstore con i supercrediti a parte. Mentre nei war bond non mi sembra che ci sia una con questo perk ed è sicuramente molto utile perché essere con armatura leggera veloce e avere due granate in più è importante, è interessante e utile. Quindi questa è buona, sicuramente buona come armatura leggera. Per quanto riguarda l'Eruptor R36, praticamente un fucile bolt action con proiettili esplosivi, questo è molto interessante. Questo apre molte nuove possibilità di creare una build. Perché il danno esplosivo è molto forte. Il problema qua è che avete un'arma molto lenta a sparare, ma molto lenta a sparare, con solo 5 colpi e tra un colpo e l'altro c'è un buon secondo di tempo di togli i bolt, metti i bolt, nonché poi bisogna cambiare il caricatore dopo 5 colpi. Però se siete precisi fa veramente tanto danno e anche contro gli automaton in particolare è particolarmente efficace, ma dovete essere precisi a colpire i punti deboli. È un'arma esplosiva, quindi potenzialmente voi potete far esplodere anche le buche, con il colpo che poi va a esplodere, e anche le fabbrichette degli automaton, ok? È un po' come tutte le armi esplosive, diciamo che il danno esplosivo bypassa le armature pesanti, quindi potete anche danneggiare le armature pesanti. Potenzialmente potete anche uccidere con due colpi un charger, se lo colpite nella zampa, tra la zampa e il corpo, perché lì è un punto debole e bastano due colpi. Così come tutti gli automaton, ovviamente il danno esplosivo è molto forte. Il punto è che ha pochi colpi e molto lenta da sparare, cioè pochi colpi nel caricatore, perché poi sono tipo 12 caricatori con 5 colpi. Questo vuol dire che o voi fate il ruolo nel gruppo proprio di quello che distrugge tutto e quindi usate questa, magari usate il cannone quasar, che ormai usano tutti praticamente come supporto, magari usate le termite e siete praticamente la super classe anti-tank. Però ovviamente avete grossi problemi se c'è tanta gente che vi viene addosso, perché ovviamente non potete spararle in corpo a corpo, vi suicidate o comunque avete problemi a gestire le masse. Quindi l'alternativa potrebbe essere che usate quest'arma come arma di supporto, usate un lanciafiamme, una mitragliatrice, altrimenti dovete ovviamente fare affidamento al resto del vostro gruppo. Però è interessante che questa è un'arma molto molto forte, anti-armature pesanti, ed è un'arma primaria, ok? Non è un'arma di supporto. Ma dovete essere precisi a sparare, molto precisi. Quindi per me è molto approvata, però dovete gestire bene il loadout con quest'arma. Andiamo a finire con la terza pagina, nella quale io di mio ho sbloccato solamente la pistola granate, ma in realtà poi ci sta anche un'armatura pesante, devastatore, con un perk fortificato. Ok, questa è ottima, ovviamente. Ce ne sono già altre nel gioco pesanti con fortificato e a volte io le uso. È un'accoppiata ottima contro gli automaton, vi rende la vita decisamente più facile perché vi diminuisce i danni, chiaramente, di tutti i missili che vi tirano addosso gli automaton, comprese torrette, megatorri o devastatore, eccetera eccetera, walk, quello che volete voi. In più ovviamente ha tanta armor di base ed è stata abbaffata ultimamente e quindi è buona, ovviamente. Cioè per gli automaton secondo me l'armatura migliore, mentre per i terminidi io preferisco sempre avere armature leggeri. Esteticamente è come la vedete e insomma va un po' anche a gusti. In realtà a me non piace molto esteticamente questa roba davanti. Per quanto invece riguarda la pistola a granate è eccezionale. È esattamente come mi aspettavo fosse. Praticamente ha otto colpi, otto colpi singoli, quindi sparate un colpo, ricaricate, sparate un colpo, ricaricate, avete otto colpi. È abbastanza veloce a ricaricare il singolo colpo e lancia una granata, molto semplicemente. Quindi potete chiudere le buche, potete distruggere le fabbrichette degli automaton e insomma avete un lancia granate in miniatura come pistola, come arma secondaria. E questo è un grandissimo vantaggio perché vuol dire che potreste usare una granata stordente se l'avete sbloccata nell'altro overbound o comunque una granata termite di questo overbound oppure una granata normale diciamo a impatto o incendiare o quello che volete voi come granate. Quindi vi dà molte più granate a disposizione. Questo a costo ovviamente di lasciare giù la pistola, magari mitragliatrice, che è quella più usata, più forte, però non è cosa da poco. Cioè vi aumenta la quantità di granate di fatto a disposizione e anche di tanto proprio perché ha otto colpi. Quindi questa è sicuramente un'ottima arma, cioè veramente molto buona e diventerà sicuramente la mia arma secondaria di default. In ultimo abbiamo la balestra esplosiva alla Rambo. Ovviamente non posso darvi una impressione personale perché non l'ho provata, però ho visto un po' di video e mi è sembrata effettivamente simile, anche guardando i danni, 420 contro 380, simile effettivamente a quello che può essere l'eruptor. Però con quali differenze? La balestra ha anche lei 5 colpi per 12 caricatori, però è molto più veloce a sparare i singoli colpi, ovviamente ha molto meno range a livello di lunghezza di tiro, in più è influenzata dalla gravità, quindi dovete, se il tiro è troppo lontano, aggiustare ovviamente la parabola. Però fa tanti danni, soprattutto fa danni esplosivi importanti. Quindi nei video che ho visto mi è sembrata buona, però sempre ricordandovi che è un'arma primaria, ok? Quindi la state sostituendo eventualmente a mitragliatrice o quant'altro, quindi siete con un'arma comunque limitata, con come colpi da sparare, anche come velocità di tiro tutto sommato. Quindi dovete compensare in qualche modo o con l'arma di supporto, oppure, come detto prima, fate il ruolo nel vostro gruppo da 4, da 3, da 2, di quello che fa specificatamente tanti danni agli obiettivi armonizzati, ok? Però se poi arriva tanta gente siete un po' in panico, perché anche se è esplosiva e fa danni ad aria, ovviamente se qualcosa vi arriva addosso non la potete usare, perché vi suicidate, e comunque i colpi sono limitati, anche se spara abbastanza velocemente, i colpi sono limitati e poi dovete ricaricare, quindi è anche range ridotto, quindi da valutare. Però magari poi quando la proverò dal vivo e di prima persona potrò darvi qualche spunto in più. Per adesso, rispetto a quello che ho visto, mi è sembrata, diciamo, la sorella minore del bolt action esplosivo, però un pochino più veloce e con meno range, ma non di meno interessante comunque per un certo stile di gioco. Insomma, alla fine della fiera anche questo warbond non sempre sgravatissimo, però fa delle cose interessanti e in linea di massima mi sembra migliore del warbond precedente. Cutting Age mi è sembrato per adesso il peggiore warbond che sia uscito, onestamente, mentre occhio che questo warbond, il primo che era uscito, quello dei veterani, è da super rivalutare, perché vi ricordo che quest'arma è stata abbaffata, lo spezzosso incendiario, nelle ultime patch, e anche di brutto, cioè contro i Terminidi è tipo l'arma più forte del gioco in questo momento, eppure il dominatore è stato abbaffato pesantemente ed è molto molto forte contro gli Automaton, ok? Quindi per adesso, secondo me, il warbond più forte per come è bilanciato il gioco in questo momento, in realtà è il primo, quello che era uscito all'inizio del gioco, che all'inizio del gioco faceva un po' cacare, quello dei veterani. Questa è la mia opinione. Per adesso questo è il miglior warbond, secondo me, poi viene quello che è uscito adesso, e in ultimo Cutting Age. Però chi lo sa, magari arrivano nuove razze e magicamente le armature queste con resistenza elettrica diventano fortissime, vedremo. Oppure cambia il bilanciamento e magari queste armi diventano più forti, chi lo sa. Però per adesso questa è la mia opinione. Bene ragazzi, per questo video è tutto, spero di essere stato utile ed esauriente. Noi ci becchiamo prossimamente comunque per altri video qua sempre sul gaming. Grazie per l'attenzione, statemi sempre bene e alla prossima. Ciao ciao!